Buonasera, vediamo insieme i titoli di oggi. A Rimini, 92 casi di mesotelioma dal 1996. Domani si celebra la giornata delle vittime dell'amianto. La regione ha pubblicato il registro. In 15.000 cattolica per la festa al bikini con DJ Ralf, super lavoro per i carabinieri, arresti e denunce. Presentato al Grand Hotel l'evento Piacere Spiaggia Rimini dall'1 al 3 maggio in piazzale Fellini. Intervento telefonico a sorpresa di Edoardo Bennato, protagonista musicale del primo maggio. Calcio a Rovigo ieri arrivata per il già promosso Rimini la seconda sconfitta di fila dopo Montemurlo. Cari ha schierato un 11 sperimentale. Ben rientrate in studio in occasione della giornata mondiale per le vittime dell'amianto che si celebra domani. La regione ha presentato la sezione del sito dell'Assemblea legislativa dal titolo Amianto vite in polvere che raccoglie testimonianze di chi ha vissuto a contatto con una sostanza, appunto l'amianto, che per decenni in Italia è stata prodotta e usata senza la consapevolezza della sua nocività e che, secondo le stime, ha causato più decessi degli incidenti sul lavoro. Vediamo. Con l'aggiornamento, a fine 2014, i casi di mesotelioma maligno riscontrati dal 96 su Cittadini Emiliano Romagnoli salgono a 2.127 e nella gran parte dei casi è stata accertata l'esposizione all'amianto e il trend è in crescita. Negli ultimi anni i casi rilevati sono più che raddoppiati, passando dai 73 all'anno del 96 ai 154 del 2013. Spesso, infatti, i tumori emergono molto dopo l'esposizione. Il 74,7% dei casi è diagnosticato dopo i 64 anni. La provincia più colpita è Bologna, con 474 casi dal 96, Rimini con 92 e quella con il numero più basso. I dati, in questo caso ancora quelli di giugno 2014, dicono che dei 1.198 edifici censiti ne sono stati bonificati 776 e ne rimangono 422. Su tutti questi siti le Ausl svolgono controllo e vigilanza per verificare che i proprietari mettano in atto le procedure previste dalla legge. E anche in questo caso Rimini, con 17 siti ancora da bonificare, è quella con il numero più basso. Ma rispetto all'ultimo aggiornamento, diversi interventi sono stati messi in atto, come quello con la bonifica di due capannoni dell'ospedale di Rimini esterni alla struttura centrale. Ma la maggioranza, eravamo tutti ragazzi dai 18 ai 25 anni, in cui venivano dal mondo del lavoro esterno, in cui non c'era ancora la capacità di capire che la salute nell'ambito dell'ambiente di lavoro era importante. È un materiale che era in odore, faceva polvere, come delle polveri, ce n'erano tante, perché a chi smerigliava, a chi faceva altre raschiature di un altro tipo, vuol dire, ne respiravamo, ma mai pensavamo che invece la polvere d'amianto potesse portare a questi disastri. Abbiamo cominciato a dire che volevamo la tutela sul posto di lavoro e abbiamo iniziato a prendere coscienza noi, gli operai che prendono coscienza. Chi era preposto a tutelare la nostra salute ancora non prendeva coscienza. Se non c'era la spinta nostra, noi continuavamo a lavorare in quel modo. Non si pensava che andando a lavorare ti potesse portare alla morte. Era una cosa al di fuori del comune, al di fuori di ogni logica, che sia possibile andare a lavorare che ripi. Era al di fuori di ogni logica. Due arresti e varie denunce. È l'esito dei controlli messi in atto dai carabinieri per far fronte ai problemi di ordine pubblico legati ai 15.000 arrivati domenica in Riviera per partecipare al party in spiaggia al Bichini di Cattolica con il noto DJ Ralph. Strade, autobus e treni completamente pieni di ragazzi e ragazze, di cui alcuni, si legge nella nota dell'arma dei carabinieri, già ubriachi ancora prima di arrivare. Oltre 1.300 le persone controllate e identificate dai carabinieri per tutta la durata dell'evento, vale a dire dalle 12 alle 24. I due finiti in manette sono operai di 22-23 anni, residenti nel Pesarese e pugili in una palestra cattolichina. Approfittando del caos, dopo aver forzato i lucchetti, stavano rubando due bici nel parcheggio del Bichini, ma sono stati sorpresi da militari in borghese. Ne è nata una collutazione nella quale i due carabinieri sono rimasti lievemente feriti e poi tre giovani tra i 18 e i 23 anni, tutti provenienti da Reggio Emilia, sono stati denunciati per ricettazione, un ventenne invece per il furto di un cellulare. E sono stati segnalati anche molti ragazzi per uso di droga. I cortili condominali non più luoghi di guerra fredda fra le generazioni, ma spazi di aggregazione. Il sindaco Gnassi ha firmato una lettera che nei prossimi giorni sarà inviata agli amministratori di condominio di Rimini, a seguito della modifica del regolamento di Polizia Urbana approvata dal Consiglio Comunale lo scorso 17 aprile. Tra le novità del regolamento c'è anche l'introduzione di un articolo con il quale si garantisce il diritto dei bambini ad utilizzare gli spazi comuni per giocare. Nel dettaglio si stabilisce che nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere consentito il gioco, fatte salve le fasce orarie di tutela del riposo stabilite dai regolamenti condominali che di giorno non possono avere durata superiore alle 4 ore. Da qui la richiesta del sindaco agli amministratori di condominio di mettere a disposizione di bambini ed anziani i cortili e gli altri spazi condominali, liberandoli nel limite del possibile dalle auto e dotandoli di giochi e spazi verdi. Gnassi auspica anche che i regolamenti vengano rivisti cancellando le prescrizioni che impediscono il gioco dei bambini. E a proposito di municipio, è stato firmato questa mattina nel Comune di Rimini il protocollo per l'anno 2015 del progetto su legalità e sicurezza sul lavoro nelle scuole superiori che vede coinvolti diversi enti del territorio e che dal 1999 ha coinvolto circa 10.000 studenti. Un protocollo molto importante per i giovani perché possano effettivamente entrare all'interno della cultura, della legalità e del lavoro, della sicurezza nei luoghi del lavoro, di quelli che sono i diritti dei lavoratori nei luoghi in cui si trovano ad occupare buona parte del loro tempo. Una cultura che li accompagna sicuramente in questa fase ma che consente poi un indomani anche di ampliare quelle che sono le riflessioni e ovviamente anche una serie di scelte per quanto riguarda il tema dei diritti del lavoro. Non solo, l'impatto di questo progetto chiaramente che è rivolto agli studenti delle scuole superiori in realtà arriva anche alle loro famiglie quindi questo è un impatto, è un volano ulteriore per quelli che sono ovviamente dei principi fondamentali sulla tutela della qualità del lavoro, della sicurezza dei lavoratori. In una fase come questa dove molto spesso il lavoro irregolare, lo sfruttamento lavorativo, una serie di mancanze di diritti anche di tutela degli stessi lavoratori nei luoghi di lavoro credo che sia un progetto importante ed interessante sul quale c'è il coinvolgimento di tutta una serie di enti. L'altro aspetto molto importante infatti è questo che diversi enti che hanno diverse funzioni all'interno di questo mondo di tutele appunto per i lavoratori possono scambiarsi informazioni, collaborare assieme, lavorare assieme entrare all'interno delle scuole e far percepire anche quelle che sono tutta una serie di realtà di enti pubblici, non solo organizzazioni sindacali che operano all'interno di questo settore. Quindi questo è un altro elemento importante di rapporto tra amministrazioni pubbliche, scuola e studenti e famiglie nel loro complesso. È stato presentato oggi alla Grand Hotel di Rimini l'evento Piacere Spiaggia Rimini dall'1 al 3 maggio in Piazzale Fellini. Alla conferenza è intervenuto con una telefonata sorpresa anche il protagonista del primo maggio riminese, Edoardo Bennato. Vediamo. Per spiegare perché sarà contento di essere a Rimini il primo maggio l'eterno ragazzo del rock italiano, Edoardo Bennato ha rievocato forse il ricordo più brutto degli ultimi 30 anni per gli operatori riminesi, le mucillaggini del 1989. I bagnini romagnoli, come al solito, di fronte a un'insidia di questo tipo non è per un atteggiamento vittimistico, fatalistico, ma si rimboccarono le mani, che poi a Borgale si riempirono tutti quanti nel giorno di poche ore e reagirono. Ecco, sono un esempio di capacità, sono veramente contento di celebrare il primo maggio la festa del lavoro lì a Rimini. Bennato sarà in concerto gratuito in Piazzale Fellini alle 21, ma la festa, tra degustazioni, spettacoli e la musica degli artisti di Rissuonarimini, comincerà dal pomeriggio, quando aprirà i battenti il Piacere Spiaggia Rimini Village. L'evento è promosso da Spiaggia Rimini Network, il consorzio che riunisce oltre 200 operatori della spiaggia di Rimini, 150 bagni e 60 aristobar, dal porto a Miramare. Abbiamo utilizzato questo ponte primaverile, che vuole essere appunto il lancio, quindi venerdì, partenza alle 5, 4, 5 del pomeriggio, con già dei concerti di gruppi riminesi per dare l'apertura poi al concerto serale di Edoardo Bennato. Il tutto condito da un villaggio costruito appositivamente ad hoc su Piazzale Fellini, che vuole riproporre uno stabilimento balneare in tutto e per tutto. Oggi, come dire, parte la stagione estiva con un panissesto di 520 emozioni che si uniscono alle infrastrutture che stiamo facendo, dai teatri alle fogne ai nuovi lungomare. E siamo arrivati al calcio. A Rovigo, Tana del Delta Porto Tolle, è arrivata per il già promosso Rimini la seconda sconfitta di fila dopo quella di Montemurlo. Ieri Cari ha schierato un 11 sperimentale. Vediamo il servizio. Il Rimini affronta la trasferta sul campo della squadra del momento, il Delta Porto Tolle, che ha vinto le ultime 5 partite ed è in serie positiva da 8 turni, senza ricchiuti di Deo, Pere e Dini, tutti rimasti in Romagna. Allo stadio Gabrielli di Rovigo, spazio in casa Biancorossa a chi ne ha trovato meno nel corso della stagione. Così fa il sosordio tre pali Barasso e sulla mediana viene schierato il giovane ganese Cumi, alla prima in maglia scacchi. Al quarto Lauria in profondità per Baldrocco, che però non riesce ad impattare il pallone, facile preda del portiere Biancorosso. All'ottavo i padroni di casa sbloccano il punteggio. La verticalizzazione di Cappellupo trova Caccioli pronto, Pradolin anticipa Versienti e imbecca Baldrocco, che scatta sul filo del fuorigioco e fredda Barasso. 1-0. Al ventunesimo episodio da Moviona nell'area Rodigina. Torelli in avanti, Garbini anticipa Masini, ma poi si fa rubare il tempo, rimediando con una spinta che l'arbitro non punisce. Al trentottesimo, la delta Portotoller addoppia, Baldrocco recupera palla di Mestiere su Cumi. Avanza e appoggia per Lauria, che con un tocco elegante apre a sinistra per Pradolin. Pronto è la crossa per Baldrocco. Barasso salva, ma nulla può sul tappino di Cinti, che da due passi sigla il 2-0. La ripresa inizia con tre volti nuovi in casa Biancorossa, dentro Mazzocchi, Berardi e Florio, per Tedesco, Versienti e De Martino. Al sedicesimo, un rimpallo su Masini favorisce Torelli, che va subito alla battuta, Bianchi devia in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandirina, Cumi colpisce di testa, Cacioli prolunga, Torelli spara a colpo sicuro, Bianchi si salva, il tapin vincente di Martinelli è vanificato ad una segnalazione di fuorigioco errata. Al ventiduesimo, punizione di Mazzocchi, l'incornata di Cacioli manda il pallone tra le braccia di Bianchi. Al ventottesimo, Cacioli ci riprova, sempre su imbeccata di Mazzocchi, sfera alta di un soffio. Al ventinovesimo, il portotolle cara al tris, il colpo di testa di Gerardi spiana la strada a Cinti, che va via a sinistra, e mette al centro, per Lauria un gioco da ragazzi, depositare in fondo al sacco. Bello il gesto del portiere Barasso, che aiuta l'avversario a rialzarsi. Finisce 3-0 per il Delta, alla sesta vittoria di fila, per la capolista e la seconda sconfitta consecutiva. E di Rimini Calcio, ma anche delle altre squadre del nostro territorio, si parlerà questa sera nel nostro contenitore sportivo consueto del lunedì, calcio.basket, in onda, subito dopo il telegiornale. Grazie dell'attenzione, vi ricordo domani mattina l'appuntamento puntuale con la rassegna stampa locale alle 7.30, ovviamente il nostro sito di informazione, newsrimini.it, le frequenze di Radio Icaro e il canale 91. Grazie dell'attenzione, buona serata.